Arriva la primavera e arriva la processionaria, un insetto davvero molto pericoloso per noi umani ma anche e soprattutto per i nostri cani. Vediamo insieme di cosa si tratta, come riconoscerlo e in particolare cosa fare in caso di contatto. Procediamo con ordine e partiamo col dire che la processionaria è un lepidottero che quindi appartiene alla famiglia delle farfalle e delle faline. Come ogni farfalla nasce bruco, con la caratteristica però in questo caso di avere il corpo ricoperto da dei sottilissimi peli fortemente urticanti. Nello specifico questi piccoli bruchi passano la prima parte della loro vita all'interno di nidi molto particolari che si individuano facilmente perché si trovano sulle sommità degli alberi, nei rami più alti e sottili e sono molto voluminosi, assomigliano quasi a dello zucchero filato. Si tratta infatti di un reticolo, quasi una nuvola bianca che avvolge appunto i rami più alti e sottili. A partire dal mese di febbraio, in ogni caso a partire dai mesi più miti, questi bruchi iniziano ad abbandonare il nido e scendono dall'albero uno in filo all'altro, proprio come in una processione, da qui il loro nome. Una volta raggiunto il terreno i bruchi poi si raggruppano per interrarsi e trasformarsi poi in crisalide ed è proprio quando questi piccoli bruchi arrivano sul terreno che inizia il periodo più pericoloso per il nostro cane perché può facilmente venirne in contatto. Il periodo quindi a cui dovrai prestare più attenzione è proprio quello che inizia a partire da febbraio circa fino ad aprile, anche se in alcune zone questo periodo può protrarsi addirittura fino a maggio. Ma quali sono i rischi che corre il cane? Come detto ciò che rende pericolosi questi insetti sono questi sottilissimi peli che ricoprono il loro corpo e che hanno un'azione fortemente urticante. Il cane anche solo semplicemente annusando il terreno può ingerire questi sottilissimi peli e manifestare dei sintomi anche gravi. I principali sono la scialorrea, quindi una salivazione abnorme, eccessiva, che si manifesta in modo intenso ed improvviso. Il gonfiore della lingua che è il sintomo più pericoloso e da tenere più sotto controllo perché la lingua a causa del processo infiammatorio può raggiungere delle dimensioni tali da portare addirittura il cane al soffocamento. La necrosi della lingua e cioè un processo di distruzione del tessuto cellulare, tanto grave che può portare addirittura alla perdita di parti della lingua. Una dimostrazione di forte dolore da parte del cane che può manifestarsi in diversi modi, attraverso una respirazione veloce ed ansimante, attraverso un'attività di leccamento continua, oppure ancora il cane potrebbe iniziare a tremare e a non voler essere toccato. Altri sintomi poi possono essere la perdita di vivacità, febbre, rifiuto del cibo, vomito e diarremorracica. Insomma, credo che ti sia ben chiaro come l'incontro con la processionaria possa davvero essere molto pericoloso per il tuo cane. Quindi è molto importante che tu sappia esattamente cosa fare se questo sciagurato incontro dovesse accadere. Per prima cosa devi essere molto tempestivo. Si tratta di un'emergenza grave e in quanto tale deve essere immediatamente affrontata. Cerca quindi fin da subito di eliminare la maggior parte possibile di questi peli urticanti, sciacquando abbondantemente la parte interessata con dell'acqua. In questo modo eviterai anche che i peli vengano ingeriti e causino poi dei danni ancora maggiori. Ricordati che i peli sono urticanti anche per noi, quindi durante questa operazione utilizza dei guanti e fai attenzione perché non dimenticarti che il cane in quel momento sta provando un forte dolore. Fatto questo reccati immediatamente dal tuo veterinario di fiducia o comunque dal veterinario più vicino che potrà prescrivere la terapia di sostegno più adeguata. Detto questo, proprio come per le zecche, anche in questo caso l'arma più efficace è la prevenzione. A proposito di zecche, anche di queste ahimè si sta avvicinando la stagione. Per questo motivo ti piacerebbe un video di approfondimento proprio su questo argomento? Se sì, fammelo sapere nei commenti. In ogni caso, per quanto riguarda la processionaria, la miglior prevenzione possibile si traduce in una grande attenzione da parte tua durante tutte le passeggiate. Se fino a poco tempo fa infatti la presenza di questi insetti era limitata alle zone boschive lontane dai centri abitati, adesso invece le ritroviamo molto più frequentemente anche in città. Poni quindi attenzione a qualsiasi luogo verde in cui porti il tuo cane a passeggiare, sia che si tratti del bosco, del tuo giardino o del parco vicino a casa. Sappi poi che gli alberi su cui più comunemente le processionarie fanno i nidi e quindi sotto cui è più probabile trovarle sono i pini, le querce ma anche i castagni e i faggi, specie se sono esposti al sole. Magari inizia già da ora a buttare un occhio su questi alberi, soprattutto nelle loro parti più alte e se ti dovesse accorgere della presenza di un nido, non improvvisare, piuttosto rivolgiti alle autorità competenti che sapranno mettere in atto un'adeguata disinfestazione. In Italia infatti la lotta alle processionarie è disciplinata e prevista da un'apposita e specifica normativa, in quanto le processionarie costituiscono un grave pericolo per la salute nostra e dei nostri animali. In conclusione, con l'arrivo della bella stagione inizia per noi proprietari un periodo un pochino più complicato. Tuttavia questo non è mai un motivo valido per privare il cane delle sue sane e belle passeggiate, perciò godetevi queste giornate più lunghe e miti che la primavera finalmente ci regalerà. Ricordati solo di prestare un po' più attenzione. Siamo arrivati alla fine, se hai trovato queste informazioni utili condividi pure questo video con dei proprietari tuoi amici. In ogni caso se il video ti è piaciuto lascia un like e ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e non perderti i prossimi contenuti.